La Cina rivendica la sovranità sulle isole Nansha, compresa la barriera Bliss, e considera giuste le sue azioni per difendere i propri diritti. Le azioni di altri paesi violano la sovranità cinese e la dichiarazione sulle condotte delle parti nel mar cinese meridionale, in particolare l'articolo 5, creando tensioni e danneggiando la pace e la stabilità regionale. Esortiamo il Nord a ritirare subito personale e navi e a non proseguire su questa strada. L'isola ospita armi offensive strategiche della guerra fredda inappropriati per questa regione. Stati Uniti e Filippine ritirino immediatamente queste armi e si astengano dal dispiegarle in futuro, coerentemente con le loro dichiarazioni. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno gravemente minato il controllo degli armamenti e il disarmo ritirandosi dagli accordi, aumentando tensioni e ostilità. Legando i loro alleati ai carri armati da guerra, distruggono la pace e la stabilità regionali. La Cina si oppone fermamente e sollecita gli Stati Uniti e le Filippine a rispettare il desiderio di pace e sviluppo della regione. La Cina condanna fermamente le dichiarazioni provocatorie e altamente irresponsabili del segretario generale della Nato riguardo alla Cina. Tali dichiarazioni sono piene di pensiero da guerra fredda e pregiudizi ideologici, sovvertono la verità e attaccano malignamente il sistema cinese, interferiscono apertamente negli affari interni della Cina e distorcono maliziosamente le politiche interne ed esterne cinesi. Sul problema dell'Ucraina stanno eludendo le proprie responsabilità e fuorviando la comunità internazionale sulla normale costruzione delle forze armate cinesi, commentando in modo improprio le relazioni internazionali della Cina. La Cina esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione a questo. La Cina ha già chiaramente espresso la sua posizione sulla questione ucraina e al vertice della Nato. Vorremmo sottolineare ancora una volta. Per lungo tempo il segretario generale della Nato ha ignorato i fatti e i ripetuti negoziati con la Cina, continuando a utilizzare varie occasioni per diffamare e attaccare la Cina, propagando la teoria della minaccia cinese, fomentando sentimenti di sfiducia e ostilità contro la Cina, collaborando con alcune forze per reprimere e contenere la Cina. Tutto ciò è palese e queste pessime performance non possono che allertare il mondo, dimostrando pienamente i rischi e le sfide che la Nato, come prodotto della politica di blocchi e confronto dell'era della guerra fredda, può portare alla pace e alla stabilità mondiali. La Cina consiglia ai politici occidentali, che stanno per terminare la loro carriera politica, di non tentare di avvelenare le relazioni internazionali e provocare conflitti per lasciare un'eredità forzata. La Cina continuerà sulla strada dello sviluppo pacifico, infondendo stabilità e positività alla pace mondiale tramite il proprio sviluppo e la cooperazione internazionale. Al contempo sosterrà fermamente sovranità e sicurezza. Considerare la Cina come nemico immaginario porterà la Nato a subire le conseguenze.